Grazie per essere con voi, vi ho seguiti appunto dall'inizio con attenzione, è un momento sicuramente importante l'apertura di questo percorso per la quarta assemblea plinare della conferenza permanente, saluto tutti i rappresentanti dello Stato, del Parlamento, delle regioni e anche naturalmente dei comuni e delle province e con anche un moto di sincero affetto tutti i rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'estero e lo dico con una punta d'orgoglio essendo stata per larga parte della mia vita anche io un'italiana all'estero, quindi davvero Schiavone è un piacere essere qui a portarvi diciamo in sostituzione del Presidente Bonaccini che purtroppo era impegnato alcune riflessioni da parte della conferenza delle regioni e delle province autonome che ritengono che la nuova conferenza si debba porre due obiettivi principali definire le linee programmatiche di una nuova politica volta a valorizzare anche gli italiani nel mondo come prevede la legge istitutiva della conferenza ma anche come secondo obiettivo dare respiro e innovazione alle politiche tanto nazionali quanto regionali verso i nostri connazionali e corregionali che vivono all'estero va da sé che siamo richiamati a questo sforzo ancora maggior ragione oggi che questa crisi drammatica dovuta al covid-19 ha colpito non solo l'Italia ma tutti i paesi d'Europa e del mondo e che quindi ci richiama insomma a fare ancora più sistema mettere ancora più a valore la presenza e la rappresentanza dei nostri connazionali all'estero. Il primo aspetto su cui è fondamentale a nostro avviso concentrare gli sforzi è su alcune priorità di metodo e di contenuto parto dal metodo è importante la continuità d'azione dove dovremmo quindi garantire il carattere permanente della conferenza attraverso anche l'istituzionalizzazione della cabina di una cabina di regia tecnica per monitorare l'applicazione dei principi e la realizzazione delle proposte contenute nel documento finale e poi il potenziamento della segreteria operativa della conferenza includendo rappresentanti delle regioni presso la Farnesina e con la necessaria dotazione di personale e anche di fondi adeguati. Occorre poi riaffermare il ruolo del Consiglio Generale degli Italiani all'estero attraverso la sua riforma, ascoltavo anche poc'anzi l'onorevole Fassino su questo, per esempio prevedendo anche la partecipazione in quella sede di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali, la sua realizzazione consentirebbe di allacciare un ulteriore anello di collegamento tra i soggetti di questa conferenza. Per quanto invece riguarda il contenuto sicuramente alcune delle questioni che avete già sollevato negli interventi precedenti stanno molto a cuore anche noi, in particolare includere i giovani e le giovani che sono protagonisti di nuove migrazioni, di quarta, di quinta generazione e dobbiamo in tutti i modi costruire le condizioni per un loro pieno coinvolgimento e una loro piena partecipazione, un dialogo forte e costante con loro che sono i primi ambasciatori in qualche modo della nostra presenza, della nostra capacità di innovazione anche all'estero e in tanti meriti che portano tanto nel mondo professionale quanto in quello della ricerca e anche come ambasciatori della nostra cultura e della lingua italiana. Prima si diceva, lo diceva proprio Schiavone, riguardo alla proiezione delle regioni italiane all'estero, certamente questo è un versante su cui troverete forte sinergia e alleanza con noi regioni e poi implementare politiche che siano in qualche modo anche attrattive per i giovani. Ecco, in questo quadro per fare sistema sarebbe interessante costituire, so che ne avete già in qualche modo discusso, una piazza virtuale, una specie di hub che sia a disposizione proprio di tutte e tutti con i nazionali all'estero e che in qualche modo sia il punto di riferimento per la nuova migrazione. Innovazione nella continuità, questo è importante, no? Tenere insieme il filo delle comunità che si sono spostate anche in fasi diverse attraverso generazioni diverse e questo lo dobbiamo fare anche approfittando ad esempio delle nuove frontiere della digitalizzazione, delle nuove tecnologie che in qualche modo, pur essendo forzati in questa frase a mantenere le distanze fisiche, mi piace pensare che siamo stati tutti diciamo costretti a utilizzare al pieno potenziale anche delle tecnologie che in qualche modo ci hanno permesso di accorciare, invece lo dimostra l'incontro di oggi, le distanze geografiche. Ecco, proviamo a trarne insieme il meglio. In questo anche i fondi del Next Generation EU dovrebbero essere aiutati, dovrebbero aiutarci ad essere volti anche a questi obiettivi, ad esempio digitalizzando ancora più i servizi consolari per i cittadini italiani e le cittadine italiane nel mondo, comunicare con l'emigrazione, far sentire insomma la presenza dell'Italia, i fili che ci uniscono e offrire naturalmente i servizi che servono e ascoltare anche quelle persone che sono emigrate per capire quali opportunità, quali sinergie creare insieme ai nostri connazionali e negli altri paesi. Ecco, io credo che la prossima conferenza avrà dunque il dovere di realizzare un passo avanti, un passo avanti deciso, concordando il metodo di lavoro, costruire la programmazione anche delle politiche in modo che gli sforzi che mettiamo in campo tra le tre diverse componenti della conferenza producano un risultato sempre più efficace, sempre maggiore della singola somma dei nostri interventi, delle nostre azioni. Quindi la politica del paese in un'epoca di sfide globali e cruciali per il futuro e per le prossime generazioni. Noi ribadiamo la nostra piena collaborazione col vostro lavoro, siamo presenti con cinque regioni nella cabina di regia e confermiamo naturalmente che sottoporremo quanto prima alla conferenza delle regioni i temi che emergono dall'analisi dei vostri documenti in vista appunto della plenaria, confermando il nostro pieno interesse su alcuni di questi argomenti, compreso anche quelli che riguardano il fondo delle regioni. Grazie davvero, buona continuazione, un saluto caro e affettuoso a tutte e tutti i presenti.